Buonasera a tutti e tutte i nostri affezionati utenti di queste conferenze di approfondimento legate alla mostra del ritratto veneziano dell'Ottocento. Siamo molto contenti con il professor De Feo, cocuratore della mostra, con me io sono Elisabetta Barisoni, responsabile di Capesaro e curatrice appunto col professore di questo grande viaggio nel ritratto dell'Ottocento e soprattutto il grande omaggio che Capesaro ha voluto fare al suo primo direttore, quindi Nino Barbantini. Sono molto contenta, vi porto i saluti del Consiglio d'Amministrazione della nostra Presidente Maria Cristina Gribaudi e di tutto lo staff di Fondazione Musei Civici della dottoressa Squarcina, direttrice scientifica di Fondazione, perché anche poi è responsabile della sede di Mocenigo dove siamo adesso, perché proprio in questi giorni parlavamo del successo anche di queste visite guidate, di queste conferenze che sono sempre tutte prenotate, tutte esaurite, quindi ringrazio gli ospiti che ci hanno seguito e anche la professoressa Barbalic per oggi, per la conferenza di oggi, ma voi come pubblico e tutti i visitatori, perché il museo veramente ha avuto un grande successo da questa mostra, lo dico più che come curatrice, come responsabile museale. E ahimè poi dovremo staccare il professor De Feo il 2 aprile dalle opere perché si attaccherà all'ultimo ritratto quando inizieremo a disallestire la mostra, perché lo so che ormai non riuscirà a vivere senza di noi, no, noi non riusciremo a stare senza di lui, ma la mostra è aperta fino al primo aprile, poi vi ricordo che la conferenza presente come quelle precedenti e la prossima sono registrate e saranno disponibili sul sito di Capesaro e sul canale YouTube di Fondazione. Anticipo la conferenza di oggi, faremo un viaggio nel panorama del melodramma ottocentesco a Venezia e poi anticipo l'ultima del prossimo martedì 19 marzo, Francesco Cigolini ci parlerà del sorriso dell'Ottocento, alimentazione, igiene e problemi di salute. Un'ultima nota di servizio per chi fosse interessato, il 26 di marzo faremo un grande convegno di studi tutto il giorno a Capesaro questa volta, sperando che il tempo sia clemente e di non congelarvi e non congelarci in Androne a Capesaro, ma dove si è svolto il delitto, diciamo nel luogo del delitto, faremo questa grande rassegna anche con i saggisti, gli studiosi che hanno contribuito al monumentale catalogo che abbiamo stampato per questa mostra, di modo che con il professor De Feo e noi insomma riescono anche a esporre alcune novità che abbiamo trovato, che abbiamo studiato nel corso di questi quasi cinque mesi appunto di mostra. Quindi vi aspettiamo comunque anche il 26 marzo a Capesaro dalle 10 alle 16. Ringrazio ancora l'ospite di oggi, lascio la parola al professor De Feo, buonasera. Grazie a tutti di essere presenti, sono molto felice e onorato di avere con noi Elena Barbalic, amica, grande studiosa di teatro, regista, direttrice di teatro, docente di regia all'Accademia di Belle Arti, ha lavorato a Venezia, alla Fenice, ha lavorato al Petruzzelli, ha lavorato a Roma, ha lavorato in Portogallo, ha lavorato in tanti teatri importanti del mondo e io ora non ricordo, devo essere sincero, tutte le sue grandi conoscenze ma soprattutto la sua carriera. Sono 30 anni comunque che lavora in l'ambito del teatro, anche se non sembra, ma sono felicissimo che sia qui con noi a parlarci di un altro degli argomenti che sono fondamentali per la comprensione di questo XIX secolo, anzi forse è il più necessario argomento da affrontare per comprendere cosa è stata la civiltà dell'Ottocento, il teatro, usate l'opera senza capire cos'è questo sottofondo della civiltà figurativa dell'Ottocento e come non si può capire il 1700 senza parlare di teatro. Quindi sono felicissimo che questo intervento sia un contributo fondamentale per allargare di più gli orizzonti e per far amare questo secolo, un po' che abbiamo detto già negletto, ma che deve ritornare ad essere amato dai veneziani come non lo è mai stato. Grazie. Io tra l'altro oggi vi parlerò di due eventi artistici fondamentali che hanno avuto luogo proprio a Venezia. Per questo ritengo che la mia dissertazione sia in tema con la mostra che avete visto e visitato. Per farvi capire, perché anch'io l'ho di nuovo compreso tornando a questi studi, quanto la città di Venezia sia sempre stata una città estremamente aperta alle innovazioni. E lo è stata, l'è stata da sempre, se pensate a quando venne Monteverdi e nella Basilica di San Marco riscrisse i Vespri della Beata Vergine, trovando delle soluzioni stereofoniche, sonore totalmente inedite, che erano state studiate prima da Villaert. Se pensate che nel 1637 si aprì il primo teatro per pubblico pagante lirico, che era il teatro di San Cassiano, che tra l'altro adesso stanno cercando di ricostruire. Diciamo che Venezia, e se pensiamo a cos'era Venezia nel 1700, immaginate che Venezia nel 1700 durante i carnevali si può paragonare a come oggi New York, come è Berlino, le città, diciamo, tra le città più avanzate artisticamente, culturalmente. Ecco, Venezia era questo. C'erano teatri aperti, concerti, spettacoli a decine contemporaneamente, una vita vivissima culturalmente. Ecco, naturalmente si può pensare che quando Venezia attraversa quel periodo drammatico sotto il dominio asburgico, forse la sua cultura non fosse così viva, aperta, innovativa. Una cultura che poi continua nel 900, infatti non a caso la Biennale nasce a Venezia. Invece questo filo rosso continua stranamente anche sotto il dominio asburgico. E la dimostrazione di questo, ecco, vedete, vi faccio vedere proprio un dipinto che rappresenta l'assedio austriaco nel 1849, quando Venezia, dopo la breve parentesi della Repubblica, presediuta da Daniele Mani, fu ripresa dagli austriaci, dall'assedio austriaco. Ecco, quindi, nonostante questo, nonostante Venezia si trovasse in una situazione molto grave, da tutti i punti di vista, anche economici, nonostante questo, ebbero luogo due eventi musicali tra i più importanti della storia della musica, anche per la rivoluzione che comportarono nell'ambito della storia del melodramma, sia a Venezia che anche, diciamo, a livello europeo. Ecco, questi due eventi, che voi conoscerete benissimo, sono uno, Rigoletto, di Giuseppe Verdi, che venne rappresentato nel 1851, e l'altro, La Traviata, che invece venne rappresentata nel 1853. Naturalmente sono opere che noi conosciamo a memoria, e proprio per questo è difficile oggi comprendere la portata rivoluzionaria di queste due opere. Una portata talmente rivoluzionaria che furono soggette a una censura durissima, e soprattutto la prima della Traviata, fu uno scandalo epocale. Ecco, io comincerò, in ordine cronologico, a raccontarvi tutta la gestazione molto, molto laboriosa e sofferta di Rigoletto, che era stato commissionato a Verdi, alla Fenice, per la stagione 1850-51. Ecco, vedete Venezia, in quel momento, questa è una fotografia tratta da Senso di Visconti, anche se il film si svolge più tardi, nel 1866. Venezia era sotto la dominazione austriaca in quel momento. Verdi aveva cercato di... si era innamorato del soggetto di Rigoletto, che deriva da Leroy Samus di Vittorio Gault, e voleva proporlo già al San Carlo di Napoli, sul libretto di Cammarano. Ma poi non era stato contento di come erano andate le cose durante la produzione della Luisa Miller, e quindi aveva deciso di non collaborare più con il San Carlo. Quindi decide, invece, di accettare la proposta del Teatro La Fenice per un'opera nella stagione 1850-51 e decide di proporre questo progetto, Leroy Samus. Leroy Samus, ovvero Re si diverte, era un dramma, proveniva da un dramma di Victor Hugo. E questo dramma, immaginate che la sera stessa in cui era stato rappresentato alla Comédie Française era stato censurato immediatamente, la stessa sera, e non aveva avuto più repliche. Bisognerà attendere la morte di Victor Hugo perché il dramma venga rappresentato nuovamente. Per quale ragione era stato censurato? Perché il protagonista, se voi ricordate Rigoletto, ovviamente lo ricordate tutti, il Duca di Mantova in realtà in Victor Hugo è Francesco I di Francia. Quindi un re libertino, dissoluto, almeno così lo dipinge Victor Hugo, perché in questa figura si adombrava in realtà Luigi Filippo. E quindi era un attacco diretto e molto forte nei confronti della monarchia di quel momento. Che tra l'altro era una monarchia recente perché Luigi Filippo era stato istituito nel 1830 dopo la rivoluzione quando era stato deposto Carlo X e Carlo X che voleva, diciamo, reinstituire l'assolutismo monarchico e invece poi era stato rovesciato e con Luigi Filippo si era aperta la speranza che la monarchia costituzionale diventasse qualcosa di solido nella storia francese. E invece Victor Hugo, essendo molto deluso da questo monarca, scrive questo dramma velenosissimo in cui tra l'altro tratta, cioè pone al centro una figura che prima d'allora non aveva mai trovato spazio in nessun dramma come protagonista, ovvero il buffone. Noi troviamo spesso, incontriamo spesso buffoni per esempio nelle tragedie, nei drammi shakespeariani. Il buffone che è sempre la voce della verità, che sta spesso a fianco del potente, del re e che è il personaggio che è libero di esprimere tutto quello che vuole dire e che forse il re vorrebbe dire e non può. Quindi il buffone è sempre una figura molto importante, però non era mai stato considerato nella sua umanità, nella sua consistenza umana. Invece è quello che fa Victor Hugo per creare un personaggio ambiguissimo che non è possibile giudicare, non si può porre né nella dimensione del bene né nella dimensione del male, ma partecipa ad entrambe profondamente, abissalmente. Quindi è una figura estremamente interessante e questo fu anche un motivo della censura. In più, cosa fa Victor Hugo? Associa il sublime al grottesco, qualcosa che era inaudito e che poi è fondamentale nella poetica romantica, associare questi due estremi. Li associa attraverso proprio le due figure protagoniste, Triboulé, che poi diventerà Rigoletto, e Blanche, che diventerà Gilda. Lui buffone, deforme, e invece la figlia bellissima, candida, virginale. Queste due figure si rispecchiano inoltre in due figure nobili, Saint-Vallier, che diventerà poi Monterone, e sua figlia Diana di Poitiers. Invece in due figure grottesche, quelle di Magellan, che diventerà Maddalena, la prostituta, e Salta Badil, che diventerà sparafucile, il killer. Quindi tutti questi accostamenti, questi rispecchiamenti, accostavano delle categorie che non erano ammissibili, soprattutto perché il tutto ruotava intorno alla figura di un re che invece era sempre stato considerato una gloria della Francia, un sovrano illuminato. Quindi c'è questa censura feroce che si opera immediatamente, e Verdi ha il coraggio di voler proprio mettere in scena questo dramma che era stato censurato. E non solo lo vuole mettere in scena e musicare, ma a Venezia, dove tra l'altro dominava l'Austria e la censura era durissima. Vediamo che Verdi si innamorava spesso di soggetti letterari dai quali poi traeva opere, opere che voi conoscete benissimo, Hernani, che è sempre tratto da Vittorio Goh, Macbeth da Shakespeare, I masnadieri da Schiller, Rigoletto da Vittorio Goh, La traviata da Alexandre Dumas, ma figlio, Don Carlos, sempre Schiller, Otello, Shakespeare e Falstaff Shakespeare. Ecco, sono tra le più famose opere di Verdi. Hanno tutti dei drammi originali. Ed è interessante notare come ci fosse anche una grande fedeltà nella maggior parte dei casi. Se voi leggete i testi originali notate un'aderenza impressionante. Verdi quindi vuole mettere in scena questo soggetto con tutte le sue forze e per quello sguinzaglia Francesco Maria Piave che era il librettista per tutta Venezia perché vuole ottenere il permesso, vuole aggirare la censura e quindi scrive questo. Tentate, scrive questo a Piave, siamo il 28 aprile 1850. Tentate, il soggetto è grande, immenso ed avvi un carattere che è una delle più grandi creazioni che vanti il teatro di tutti i paesi e di tutte le epoche, carattere e personaggio. Il soggetto è l'erroise amuse ed il carattere di cui ti parlo sarebbe tribolè. Post scrittum, appena ricevuta questa lettera mettiti quattro gambe, corri per tutta la città e cerca una persona influente che possa ottenere il permesso di fare l'erroise amuse. Non addormentarti, scuotiti, fa presto, ecco purtroppo Verdi trattava sempre così il povero Francesco Maria Piave che aveva una pazienza enorme. Francesco Maria Piave era librettista ma anche direttore di scena quindi era l'addetto proprio al Teatro La Fenice anche della regia, era il regista del Teatro La Fenice. Ecco, Francesco Maria Piave si mette al lavoro però ha delle perplessità immediate perché non è convinto per esempio dalla scena del terzo atto che era quella bipartita in cui se voi ricordate l'opera Rigoletto e Gilda spiano all'interno della locanda di Sparafucile mentre il Duca di Mantova corteggia Maddalena. Ecco, nella pièce di Vittorio Gau è esattamente lo stesso, cambiano solo i personaggi Francesco I, Magellon, Blanche e Triboulé ma succede esattamente la stessa cosa. Ecco, Francesco Maria Piave ritiene questa scena di wireismo sconveniente soprattutto perché è praticata da un padre e da una figlia che spiano all'interno un re che ha una relazione, un rapporto sessuale con una prostituta quindi era veramente qualcosa di inammissibile. Altra perplessità da parte di Francesco Maria Piave è il fatto che alla fine il cadavere di Blanche viene infilato in un sacco beh, se ricordate Rigoletto ricordate che Gilda alla fine viene messa in un sacco. Ecco, questa questione del sacco era spinosissima e vedrete che tornerà anche più avanti. Naturalmente Verdi non ne vuole sapere di queste di queste perplessità di Francesco Maria Piave ed è molto preoccupato perché non sente nessuna notizia da parte della presidenza della Fenice soprattutto per l'autorizzazione politica quindi Verdi scrive nel novembre del 1850 notare che l'opera si doveva presentare nel marzo del 1851 quindi mancavano veramente pochissimi mesi e Verdi scrive ho aspettato in vano una lettera dalla presidenza che mi recasse l'autorizzazione politica del Roi Samus io non perdo tempo continuo a scrivere ma non sono tranquillo sollecita dunque la presidenza e fa che mi scriva al più presto non prendere le cose con la solita tua flemma perché qui si tratta da fare serio e serio assai bada non lasciarti indurre a fare trattamenti quindi cambiamenti che portassero alterazioni ai caratteri al soggetto alle posizioni le posizioni sono le azioni ecco quindi Verdi sempre bistrattava il povero Maria Piave che si trovava in mezzo a tutto questo a questa diciamo che era Elk Verdi aveva con il teatro e cosa succede? il testo che aveva come titolo la maledizione perché non era possibile intitolarlo il re si diverte era qualcosa che non sarebbe stato accettabile viene chiamato invece la maledizione perché voi ricordate il momento in cui Monterone maledice Rigoletto la stessa cosa nelle Roi Samus Saint-Valier maledice Triboulé e da quel momento Rigoletto pur di evitare quello che prefigura potrebbe accadere in seguito a questa maledizione fa di tutto addirittura arriva a progettare l'uccisione del Duca di Mantua ma poi alla fine questa maledizione proprio le sue azioni lo manderanno proprio nella direzione dell'anatema per cui tutto si realizzerà esattamente come lui aveva temuto e quindi il titolo la maledizione è molto importante però cosa succede che questa maledizione viene censurata l'1 dicembre 1850 proprio con questo sigillo sul libretto che fu un colpo durissimo per Verdi anche se lo sapeva fin dall'inizio lo abbiamo visto da quello che scrive ecco allora si rimettono al lavoro soprattutto Maria Piave si rimette a lavorare al libretto e dopo poco consegna a Verdi un libretto che si chiama Il Duca di Vendôme naturalmente sembra che diciamo apparentemente sembra solo che Maria Piave abbia chiamato i personaggi principali quelli di origine popolare li abbia chiamati con nomi italiani per cui Triboulé è diventato Rigoletto Blanche è diventata Gilda Maddalena è diventata Magellan anche il personaggio di Giovanna appare mentre rimane diciamo la stessa epoca lo stesso contesto solo che il protagonista non è più il re Francesco I bensì il duca di Vendôme quindi capiscono che non poteva essere un re però quando Verdi legge il libretto rimane sconvolto perché lo trova trova completamente travisata la sua la sua idea cioè quello che lui voleva di fatto era stato annullato da questa revisione di Francesco Maria Piave per quale ragione innanzitutto perché il duca di Vendôme non doveva essere assolutamente un libertino era una cosa non era ammesso quindi doveva essere un duca che si comportava correttamente e questo ovviamente mandava all'aria uno degli spunti drammaturgici più importanti in più Rigoletto non doveva avere la gobba non era possibile che il protagonista fosse un buffone eppure deforme una cosa che non si era mai vista che era inaudita Gilda non poteva essere messa nel sacco perché questo la faceva proprio la riduceva ad un residuo a una spazzatura che veniva alla fine buttata in un in un sacco dove potevano esserci e gettata nel fiume così senza una sepoltura un perso una il proprio addirittura per mano del proprio padre avrebbe fatto questa fine quindi era qualcosa che non si poteva accettare e quindi insomma è un'altra cosa che la maledizione famosa di Saint-Valier avveniva solo perché il duca di Vendôme non ha consentiva sposare la figlia di Saint-Valier come aveva promesso quindi tutta la storia era edulcorata era raffreddata non c'erano più i colori le tinte la tragicità la drammaticità che invece Verdi ricercava perché Verdi era un grandissimo uomo di teatro era un grandissimo letterato e quindi aveva il senso della drammaturgia infallibile invece qui vede veramente naufragare il sogno di mettere in scena Leroy Samus come lui avrebbe voluto e scrive questo dice non capisco perché sia si tolto il sacco cosa importava del sacco alla polizia temono dell'effetto ma mi si permetta di dire perché ne vogliono sapere in questo più di me osservo infine che si è evitato di fare triboletto brutto e gobbo per quale motivo un gobbo che canta dirà tal uno e perché no farà effetto non lo so io trovo bellissimo rappresentare questo personaggio esternamente deforme ridicolo ed internamente appassionato e pieno d'amore in coscienza d'artista io non posso mettere in musica questo libretto ecco questo scrive a Marzarica il sovrintendente della Fenice quindi insomma molto travagliato il tutto tra l'altro siamo a dicembre e a marzo l'opera doveva andare in scena ecco vediamo che c'è un nuovo interesse da parte di Verdi proprio per il corpo umano per il corpo anche considerato nelle sue patologie questo era qualcosa che era già affiorato nell'opera lirica nell'ottocento anche forse sulla scia del naturalismo francese dell'interesse scientifico crescente vediamo che compaiono nell'opera figure di malate vediamo la sonnambula per esempio di Bellini la pazzia della Lucia di Lammermoor pensiamo al sonnambulismo di Lady Macbeth per esempio ecco tutte pensiamo poi a quello che sarà la traviata quindi questo interesse per il corpo diciamo anche Verdi ce l'aveva in senso patologico anche nel senso della malattia che i personaggi non avessero più questa integrità delle eroine e degli eroi del melodramma come erano stati dipinti precedentemente quindi era interessante invece che questi personaggi avessero questa malattia fondamentalmente questo senso anche della caducità umana ecco qui Marzari finalmente sovrintendente risponde a Verdi e dice mentre la sua lettera del 14 corrente mi piombava in grande imbarazzo non potevo non riconoscere l'inopponibilità di alcune delle sue riflessioni le feci quindi tema di nuove interpellazioni all'autorità d'ordine pubblico e ho finalmente convenuto con lo stesso signor direttore centrale d'ordine pubblico che fermo il pensiero di variare come la stessa consente luogo ed epoca dell'azione verranno conservate al libretto stesso le tinte e i caratteri originari che la desidera quindi di nuovo un altro cambiamento ora diciamo che non era neanche più possibile avere come protagonista il duca di Vendôme perché comunque era un figlio illegittimo di Enrico IV di Francia quindi non era possibile neanche avere un personaggio del genere quindi Marzari suggerisce a Verdi di avere come protagonista o un signore di Borgogna di Navarra oppure anche un signore di qualche ducato italiano rinascimentale e viene scelto infatti il ducato di Mantua quindi il duca Gonzaga vengono scritte delle raccomandazioni da parte di Marzani importanti innanzitutto il fatto appunto che il duca non potesse neanche essere un duca Gonzaga ma che sia un duca di Mantua molto più generico poi il fatto in Vittorio Go se voi ricordate la scena in cui Gilda viene rapita e viene portata nel secondo atto nel palazzo del duca c'è un momento in cui in realtà noi non vediamo questa scena noi sappiamo che la ragazza è stata portata nella camera da letto del duca dopodiché arriva il duca e quando viene a sapere che Gilda è dentro quella stanza entra e chiude la porta ecco in Vittorio Go diciamo che la ragazza fuggiva si rifugiava dentro questa porta e si chiudeva a chiave ma il Francesco I estraeva un'altra chiave ed entrava nella porta e chiudeva a chiave ecco immaginate che questo per la censura era qualcosa di impossibile da rappresentare era scandalosissimo per cui viene chiesto a Verdi di rinunciare alla chiave in realtà noi vediamo sempre in tutti i rigoletti che il duca entra nella camera chiude la porta e noi capiamo perfettamente cosa succede al di là di quella porta mentre Rigoletto entra disperato a cercare la figlia però questa chiave era un elemento che era proprio impossibile da accettare inoltre c'è sempre il problema del sacco questo problema fatidico del sacco per cui Verdi si era impegnato a modificare la scena se per caso fosse sembrata sconveniente nel momento in cui la mettevano in scena la montavano ed era piave che faceva la regia in più anche il rapimento era qualcosa di delicato perché comunque questa ragazza Gilda veniva prelevata dalla casa di Rigoletto veniva chiaramente maneggiata dai cortigiani per essere portata via e anche quello nell'ottocento era qualche cosa di piuttosto sconveniente quindi anche la scena del rapimento diciamo doveva essere controllata ed eventualmente modificata per cui c'erano tutti questi inoltre cosa anche molto importante il duca non poteva arrivare nella taverna di sparafucile di sua spontanea volontà perché non doveva figurare che un duca di Mantova frequentasse i bassifondi doveva essere tratto da uno stratagemma in quel luogo periferico di Mantova ed è per questo che Maddalena lo seduce la sorella del killer di sparafucile lo seduce e riesce a portarlo nella nella taverna dove poi dovrebbe essere ucciso in realtà viene uccisa Gilda ecco dopo tutti questi cambiamenti finalmente si arriva ad un accordo e Rigoletto va in scena l'11 marzo quindi vedete come è un'opera che nasce in pochissimi mesi la prima è già un grande successo però viene criticato il soggetto e viene criticato il libretto perché venivano considerati di fatto troppo audaci in effetti per l'epoca erano assolutamente era era tutto così strano cioè è la prima volta che nell'opera lirica vediamo protagonista un buffone deforme un duca dissoluto di solito il tenore se voi pensate a tutte le opere prima di quel momento i tenori sono sempre delle figure eroiche senza macchia senza paura è la prima volta che un tenore eroico dell'opera seria è un personaggio negativo quindi Verdi aveva spostato tutti dei tasselli importantissimi nonostante questo la storia coinvolge e diventa un successo un successo che ancora oggi continua ed è una delle opere più rappresentate quindi questo è possibile è stato possibile nonostante Venezia in quel momento avesse quella censura avesse quella polizia e avesse anche una grande carenza di mezzi perché la stagione quasi non si poteva fare quella volta e che cos'è che Verdi ama di questo soggetto che lo ama da subito intanto quello che vi dicevo prima il fatto che il personaggio se voi pensate bene non è qualificabile non si può capire rigoletto che cosa sia è un personaggio che noi vediamo nella prima parte del primo atto velenoso perfido che riesce addirittura a izzare il duca contro i cortigiani al punto di farli incarcerare e uccidere quindi Rigoletto ha questo potere ed è ed è a questo odio che lo spinge nei confronti degli altri che lo fa essere un abbietto fondamentalmente però è anche un padre amorevole ed è un padre il personaggio nel momento in cui entra a casa cambia radicalmente diventa il padre più affettuoso più dolce più amabile per cui Verdi ha scritto una musica meravigliosa basti pensare al duetto con Gilda quindi era proprio la possibilità di descrivere un personaggio che è al di là del giudizio non è mai successo prima prima il mondo dell'opera è sempre un mondo manicheo dove soprattutto nell'opera seria il bene si contrappone al male ecco qui non sappiamo più dove siamo è tutto ambiguo noi comunque ci identifichiamo in Rigoletto nonostante sia un personaggio così basso ci immedesimiamo totalmente con lui e con il suo dolore con la sua sofferenza con la sua tragedia che è una tragedia di fatto simile a quella di Edipo fondamentalmente perché anche Rigoletto fa di tutto per andare contro un destino che lui vede perfettamente davanti cioè il fatto che la figlia diventerà l'amante del duca e che lui perderà sua figlia che lui tiene reclusa proprio perché nessuno la veda e lui è sicuro che andrà così e non solo andrà così ma addirittura sarà lui stesso a organizzare l'uccisione della sua stessa figlia quindi ancora più in là di Edipo di fatto Vittorio Goh voleva esprimere con questo con l'erroise amuse il fatto che il potere è inoppugnabile che il potere non può mai essere scalfitto è una visione nichilista quella di Vittorio Goh ed estremamente pessimista un buffone si solleva contro il il sovrano addirittura a un certo punto pensa di averlo ucciso di averlo sotto i suoi piedi e come massimo diciamo dello scherno in realtà sotto i piedi ha la propria figlia quindi è proprio diciamo una storia tra le più tragiche che possiamo immaginare e tra l'altro pensate alla fine anche che cos'è che piaceva a Verdi anche il ritmo narrativo la velocità del ritmo pensiamo oggi dei film d'azione quando andiamo al cinema e siamo presi dall'inizio alla fine da una sequenza d'azioni che ci tengono col fiato sospeso ecco questo importa Verdi nel teatro lirico attraverso Rigoletto questa proprio tensione narrativa che induce il pubblico a rimanere sempre appeso a questa storia e pensiamo anche all'effetto finale straordinario pensate alla donna immobile che è di fatto un'area che si potrebbe considerare tra le più banali mai scritte eppure Verdi la scrive così perché vuole che la memorizziamo la dobbiamo memorizzare poi la ripeto un'altra volta proprio perché quando Rigoletto ha sotto i piedi il sacco chiuso lui sente il duca che canta la donna immobile il pubblico l'ha memorizzato e quindi in quel momento è come un colpo di scena un colpo di teatro e lui lì capisce che in quel sacco non può esserci il duca e quindi questi sono tutti effetti tra l'altro questo c'è già in Victoria Go sono tutti effetti in cui Verdi intravede la possibilità di fare del grande teatro cosa che di fatto è e che continua a esserci ecco adesso passiamo invece alla Traviata che è un'opera che viene diciamo a stretto giro di postra rappresentata al teatro alla Fenice quindi nel 1853 ecco la Traviata anche ha una storia difficile soprattutto per come venne accolta alla prima e immaginate che la Traviata si può considerare uno degli eventi più eversivi dell'ottocento italiano perché di fatto non era mai accaduto nel melodramma serio nulla del genere io quando penso alla Traviata di solito faccio un paragone con Herman Nietzsche non so se conoscete questo artista contemporaneo che non è più vivente e che negli anni 60 faceva delle performance con il sangue degli animali e che fu più volte arrestato tra l'altro per queste sue performance ecco immaginate che la portata rivoluzionaria della Traviata la prima volta che venne rappresentata è esattamente come una performance di Nietzsche negli anni 60 per quale ragione perché la prima volta che si mette in scena una prostituta di fatto una prostituta ad alto bordo si è più corretto dire cortigiana comunque mai la protagonista di un'opera era stata una cortigiana e si anche metteva in scena il corpo il corpo come malattia e il corpo anche venduto mai la malattia era stata considerata come in un protagonista d'opera una malattia tra l'altro così contemporanea come la tubercolosi era una malattia che molti probabilmente tra il pubblico avevano ecco questa storia che anche in Cantaverdi che è una storia tra l'altro che viene dalla la signora delle camelie di Alexandre Dumas figlio e che viene a sua volta da una storia vera perché Margherita Gautier era una giovane realmente esistita che si chiamava Marie du Plessis che è vissuta a Parigi a 23 anni è morta quindi giovanissima di tubercolosi è morta nel 47 e aveva avuto una vita spettacolare era stata era una delle donne più eleganti di Parigi come cortigiana aveva avuto un successo enorme era stata anche l'amante di Liszt per esempio aveva un salotto molto frequentato e però malatissima era morta giovanissima ecco Alexandre Dumas che era stato il suo amante decide di consacrarla in questo romanzo che penso molti conoscano dove però decide di nobilitare questa donna che in realtà era una donna lo stesso Dumas ci fa capire che non aveva nulla di nobile in realtà nei suoi comportamenti era una ragazza giovane settata di vita settata di ricchezza settata di amore ecco qua vediamo proprio un ritratto della Marie du Plessis anche quello precedente originale e quindi è la prima volta che nell'opera lirica viene preso in esame non solo un romanzo di quel genere ma anche addirittura una donna vera un personaggio che era esistito che era mancato da pochissimo tempo e tra l'altro ci sono tantissime testimonianze di giornali che parlano di questa figura era proprio un personaggio molto conosciuto ecco Verdi vediamo che era sempre stato un innovatore ora noi conosciamo Verdi come le nostre tasche fa parte della nostra storia però non bisogna dimenticare quanto sia stato ai suoi tempi un autore che rischiava moltissimo e che ha cambiato proprio la struttura del melodramma immaginate che una volta il melodramma era se voi pensate anche a certe opere di Bellini e di Donizzetti costituito da numeri chiusi il che vuol dire che le scene nel teatro contraddistinto da questa struttura le scene sono nettamente divise l'una dall'altra immaginate come quando voi vedete un film quando le scene o le sequenze sono separate da un nero da una dissolvenza al nero e poi ricomincia un'altra scena ecco le opere erano così finiva il terzetto i personaggi uscivano poi ne entrava un altro cantava l'aria usciva entrava il coro cantava usciva Verdi capisce che il teatro non può più essere fatto così e comincia a creare musicalmente delle dissolvenze per far confluire una scena nell'altra si può dire come nel cinema abbiamo le dissolvenze incrociate così Verdi lo fa attraverso la musica ed è straordinario perché io ho avuto il piacere di mettere in scena varie opere di Verdi e devo dire che sempre ho trovato questo grande piacere di essere guidata da un grande regista qual era Verdi non solo per come lui dipinge i personaggi e costruisce le scene ma anche perché ci fa capire con grande facilità come iniziare una scena e come finirla proprio perché queste scene confluiscono l'una nell'altra senza soluzione di continuità quindi adesso Verdi tra l'altro ha sempre bisogno di cambiare e che cosa fa di fatto concentrando la sua attenzione su questa figura passa da come vi dicevo prima da un melodramma di tipo storico cosa che era assolutamente normale in quel momento con le esigenze che aveva l'Italia del risorgimento e quindi il melodramma era fondamentale per accompagnare questa grande vicenda storica che ha portato all'unità del nostro paese e vediamo lo stesso Verdi come era aveva scritto con il Nabucco ma anche con i Lombardi alla prima crociata delle opere che supportavano tutta questa tutte queste ideali del risorgimento però ora quasi anzi tempo perché non era ancora il momento lui sente il bisogno invece di guardare altrove Verdi tra l'altro frequentava molto Parigi perché poi aveva questo amore con la Strepponi che era Parigi un ex cantante risiedeva a Parigi che poi invece va ad abitare con lui a Sant'Agata ed è per questa ragione che lui anche scrive La Traviata perché aveva una relazione con Giuseppina Strepponi senza essere sposato e lei era andata ad abitare con lui nel vicino a Busseto a Sant'Agata con grande scandalo di tutto il paese dove era nato Verdi quindi venivano guardati come due demoni lui e la Strepponi ed è per questa ragione che questa storia lo tocca personalmente e vuole assolutamente scrivere questa storia e di fatto c'è questo passaggio da questi grandi da questi melodrammi dove il coro è importantissimo il coro è protagonista dove la storia è importantissima come sostegno della causa risorgimentale si passa invece a raccontare delle storie intime storie di persone di persone in cui anche il pubblico poteva rispecchiarsi dove si rispecchiava il singolo ecco questo è appunto il grande passaggio che fa Verdi nella scelta di questo soggetto ecco e Verdi scrive oltre che io non voglio quei soggetti comuni che si trovano a centinaia avvi la difficoltà della censura e più la mediocrità della compagnia paura di non trovare dei cantanti che siano all'altezza se vi fosse a Venezia una donna di prima forza io avrei un soggetto pronto e di effetto sicuro quindi sente però la necessità di trovare una grande cantante e scrive a De Santis a Venezia faccio la dammo camelià che avrà per titolo forse traviata un soggetto dell'epoca un altro forse non l'avrebbe fatto per i costumi per i tempi e per mille altri goffi scrupoli io lo faccio con tutto il piacere tutti gridavano quando proposi un gobbo da mettere in scena quindi succede la stessa cosa praticamente e infatti il primo titolo dell'opera Amore e morte porta alla censura non si poteva chiamare l'opera così mi viene da pensare tra l'altro che Verdi era stato quasi prolettico dando questo titolo Amore e morte perché sappiamo che siamo appunto nel 52 e nel 57 Wagner scrive Tristano Isota dove voi sapete l'importanza del libestode del concetto di Amore e morte faccio vedere questa foto perché Wagner scrive il secondo atto e l'inizio del terzo a Palazzo Giustiniani tra l'altro pensando a Mathilde Desendonc a questa sua musa ispiratrice del Tristano Isota naturalmente diciamo questo il binomio Amore e morte è uno dei nuclei propulsori di tutto il melodramma dell'Ottocento ma non solo anche della letteratura se voi analizzate tutte le trame delle opere è sempre lì la storia cioè di un tenore e un soprano che vengono separati da un baritono sempre soprattutto nel melodramma italiano dove si ripete quasi sempre lo schema di Romeo e Giulietta dei Capoletti Montecchi di Bellini due amanti che vengono separati dalla ragione di Stato e quindi alla fine la morte è l'unica soluzione nella letteratura tedesca nella cultura tedesca diciamo che la morte assume una valenza diversa di aspirazione a una condizione quasi filosofica di superamento delle tribolazioni e di superamento dei limiti della condizione umana della prigionia della condizione umana invece in Italia abbiamo sempre questo triangolo che dove però anche qui Verdi scompagina un po' questo triangolo come lo scompagina anche nel Rigoletto abbiamo il baritono è un padre che separa il figlio da una cortigiana quindi è un triangolo sì ma come mai non si era non si era visto precedentemente ecco da cosa deriva il termine il titolo traviata che poi è quello che viene scelto che non mi sembra tra l'altro meno scandaloso di amore e morte anzi lo trovo molto più scandaloso ma da cosa viene viene da queste parole che Marguerite Gauthier scrive nel dramma di Alexandre Dumas quando lascia lascia Armand sempre perché perché il padre di Armand che doveva sposare la figlia con un con un nobile va da lei e dice che deve assolutamente lasciare Armand se no la sua famiglia sarà rovinata e lei si fa compie questo estremo sacrificio e scrive questa lettera ad Armand senza dire nulla a lui di quello che era accaduto quando leggerete questa lettera Armando io sarò già l'amante di un altro tutto è finito dunque tra noi tornate da vostro padre amico mio andate a rivedere vostra sorella la casta fanciulla che ignora tutte le nostre miserie accanto a lei dimenticherete presto quel che vi ha fatto soffrire questa ragazza traviata che si chiama Marguerite Gauthier ecco quello che è interessante quindi che fa Verdi in quest'opera è il fatto che mette in gioco qualcosa che non era mai stato messo in campo precedentemente la prostituta la cortigiana con lei che vende il suo corpo il denaro il denaro lo vediamo sempre nelle opere come mezzo di scambio ma non diventa così protagonista pensate alla scena del secondo atto quando Alfredo dice questa donna pagata io l'ho e le lancia tutta questa catasta di denaro addosso ecco questa è una cosa che non era mai successa così platealmente in più la malattia il corpo e anche la figura del medico che viene introdotta non abbiamo mai visto questa figura precedentemente la vediamo nel Macbeth durante il sonnambulismo ma questo l'aveva già introdotto Shakespeare ed è proprio la figura del medico che crea un'osservazione del fenomeno in senso scientifico e patologico ecco anche qui il medico rende la malattia di Violetta più crudele più spietata più oggettivizzata e quindi con un distacco che sicuramente non ci sarebbe se questa figura non esistesse in più vediamo appunto la presenza del corpo che immaginiamo anche viene evocato un corpo sicuramente nudo perché se noi pensiamo a lei come cortigiana ma anche come malata percepiamo in tutta l'opera questa presenza del corpo in tutta la sua fragilità in tutta la sua nudità in più viene evocata anche la presenza del sangue perché voi proprio nel noi lo troviamo nel romanzo di Dumas proprio descrive la crisi di Mottisi di Margherita Gauthier qui naturalmente non c'è questo elemento ma viene sicuramente noi era evocato ovviamente tanti ci sono stati anche tanti malati tra il pubblico e anche questo era un fatto assolutamente inedito e molto scabroso parlo sempre del corpo perché mi viene in mente non so se avete presente nel terzo atto quando Violetta è nella sua camera malata cioè tutto si concentra sulla sua malattia e anche Verdi scrive la musica facendo sentire questa fragilità questa debolezza che ormai la sovrasta per cui anche il canto come viene scritto è un capolavoro c'è una trasparenza di un personaggio che non è più completamente in questo mondo ecco in quel momento di solitudine di lei nella stanza dove per la prima volta viene raccontato la morte in tempo reale cioè le ultime ore del personaggio all'interno di una stanza vengono raccontate minuto per minuto fino alla fine e in questo momento passa fuori tra l'altro un corteo carnascialesco dove Violetta sente il carnevale impazzare fuori dalle sue finestre mentre lei è sola nel buio malata fuori il carnevale impazza e c'è proprio questo passaggio del bue grasso che è proprio un accostamento molto sicuramente Verdi avrà cercato perché c'è proprio questa contrapposizione tra la figura della malattia di Violetta e questo invece animale grasso copioso che poi sarebbe stato però sacrificato come lei stessa è stata stritolata e sacrificata dalla società tutti questi temi sono molto cari alla letteratura francese e naturalmente la letteratura italiana ancora non aveva affrontato questi temi questi temi li troveremo diciamo ampiamente trattati dalla scapigliatura ma in quel momento diciamo non vengono trattati sicuramente come venivano trattati nel naturalismo francese per esempio anche da Balzac o da Zola troviamo anche in Balzac le prostitute le cortigiane nelle illusioni perdute per esempio c'è la figura di Coraline che è tubercolosa e anche morirà ma come estera anche nelle splendori e miserie delle cortigiane e tutto questo diciamo lo troviamo cioè questa atmosfera della Parigi di quel momento lo troviamo per esempio in un bellissimo libro di Roberto Calasso che si chiama La Folie Baudelaire dove Baudelaire racconta un sogno che è il sogno del bordello in cui sembrano concentrarsi tutti i temi inerenti a questa tendenza della letteratura francese il positivismo l'interesse scientifico per il corpo la prostituzione la malattia e anche tutto il male di questa società che si configura in un enorme mostro nel quale lo stesso Baudelaire si identifica ecco per mandare in scena quest'opera però cosa succede anche qui ovviamente opera la censura ma in altro modo si chiede a Verdi di non assolutamente rappresentare l'opera nella stessa in costumi della stessa epoca di quelli che avrebbe indossato il pubblico invece Verdi voleva questo effetto che sarebbe stato sconvolgente di fatto proporre una storia del genere in costumi contemporanei come oggi si fa moltissimo nelle opere vedete che si tende a rappresentare moltissimo le opere in costumi contemporanei immaginate che quella sarebbe stata la prima volta di raccontare una storia così in costumi contemporanei cioè qualcosa di molto oltre a quello che possiamo immaginare abbiano fatto registi come Peter Sellers Peter Brook quando facevano le loro le opere raccontate diciamo attraverso delle metafore contemporane e naturalmente l'impresario Lasina però scrive al Teatro La Fenice dice il signor maestro Verdi desidera domanda e prega perché i costumi della sua opera e la traviata rimanghino come sono dei tempi presenti e non si trasporti l'epoca come fece il poeta piave ai tempi di Richelux scritto così il sullodato maestro mi ha formalmente dichiarato che crederebbe sacrificata una parte dell'opera sua invece non c'è stato modo alla fine la traviata è andata in scena con abiti seicenteschi di un'epoca tra l'altro precedente all'uso delle parrucche perché Verdi per dare una parvenza di naturalismo non aveva voluto sapere delle parrucche però purtroppo andò in scena con abiti del Seicento naturalmente nonostante questo fu un un fiasco insomma il pubblico ci fu un enorme dissenso da parte del pubblico e quindi Verdi dice la traviata ha fatto un fiascone peggio hanno riso eppure che vuoi non ne sono turbato ho torto io o hanno torto loro per me credo che l'ultima parola della traviata non sia quella di ieri sera infatti poi verrà rappresentata un anno dopo nel 1854 al teatro di San Benetto e sarà un successo clamoroso allora ho quasi concluso volevo solo farvi presente delle cose interessanti che Verdi che caratterizzano Verdi non solo nella traviata ma in generale ma molto anche nella traviata come fa Verdi delle volte ad aggirare la censura usa dei trucchi nonostante il libretto risulti diciamo al di là di ogni sospetto Verdi introduce nella musica delle caratteristiche che raccontano molto di più di quello che si racconta nel libretto vi faccio un esempio per esempio nel duetto tra il papà Germont e Violetta quello che dice Germont anche se è spietato è crudele vuole che la figlia si separi da scusate che la traviata si separi dal figlio eccetera nonostante questo c'è una certa questo personaggio non doveva risultare troppo negativo ovviamente perché era un personaggio appartenente all'alta borghesia quindi non poteva essere troppo visto messo troppo in cattiva luce per questa ragione il personaggio delle volte sembra benevolo sembra affettuoso nei confronti di Violetta eccetera però poi il canto di questo personaggio viene scritto come con una cadenza estremamente monotona implacabile crudele costruita apposta per contrastare estremamente con quelle che sono invece tutte le escursioni di Violetta dalle note più basse alle note più alte e per contrastare con tutte le sfumature del personaggio che di fatto nella sua disperazione apre tutti si apre mostrando tutti i suoi stati d'animo più diversi questo l'aveva fatto anche col personaggio di Lady Macbeth perché se voi leggete Shakespeare Lady Macbeth Macbeth in Shakespeare pronuncia delle frasi che sono quasi indicibili di una crudeltà indicibile irrepetibile Verdi mette tutta la violenza del personaggio nella musica sa che non potrà mai far pronunciare al personaggio quelle frasi per questo mette questa forza questa violenza e poi insomma come vi dicevo è interessante notare come descrive la malattia quindi anche non so se ricordate la traviata all'inizio durante la festa lei si sente male si sposta in una camera dalla quale si sente che i balli continuano che le persone continuano a divertirsi e lei è sola e disperata che si guarda allo specchio e vede proprio la decadenza sul suo viso ecco anche quello mai era stato rappresentato una cosa del genere in teatro dovete sapere poi che quella scena viene proprio dalla vita vera di Dumas che quando conobbe Marie du Plessis la conobbe così a casa di questa ragazza a un certo punto lei si era sentita male aveva avuto questa crisi di sangue ed era e lui l'aveva raggiunta nella camera e l'aveva consolata e talmente l'aveva toccato questa figura questa donna che poi se n'era innamorato e poi anche interessante è proprio il fatto che anche la malattia viene considerata in altri aspetti della sua sintomatologia perché la tubercolose è una malattia anche che ha delle manifestazioni particolari anche di grande vitalità di grandi istinti di fame appetiti sessuali eccetera e quindi anche sembra la stessa cosa essere ben descritta nell'area di Violetta sempre libera dei giro la stessa cosa ecco quindi queste due opere per concludere insomma sono state due veramente oggi siamo abituati ormai le conosciamo a memoria sia la Traviata che Rigoletto e invece dobbiamo cercare di ricordare come Verdi abbia avuto il coraggio di scrivere due opere così rivoluzionari che condizioneranno il melodramma a venire da quel momento ci saranno tante altre malate di tubercolosi ricordiamo per esempio se avete visto i racconti di Hoffman alla Fenice Antonia Mimi avremo altre cortigiane come le varie Manon Manon figure come Carmen cioè quello che apre a questo diciamo corso diverso della storia del melodramma è Verdi quindi e questo anche in una città come Venezia nonostante l'assedio degli austriaci nonostante le censure nonostante la polizia Venezia continuava il suo percorso verso l'innovazione e verso la contemporaneità grazie intanto volevo ringraziare ancora Elena Barbalich per questa veramente viaggio proprio nella musica anche abbiamo scoperto io personalmente ho scoperto moltissime cose di opere melodramma che conosciamo molto bene che lo conosciamo dal teatro dalla lirica non so io sono nata a Verona una cosa che non interessa a nessuno ma ho visto fin da piccola all'arena di Verona il Rigoletto la traviata citavi anche le più rappresentate però appunto ricontestualizzarle in un secolo come questo con queste donne con questo corpo che continua a venire fuori è un problema del corpo che abbiamo già analizzato anche oggi pomeriggio e che mi ha fatto venire in mente proprio anche quel quadro di quella specie di donna perduta che si nasconde che abbiamo visto nella penultima sala e il problema del medico ci sono un sacco di spunti che come avevo anticipato l'opera e la musica sono di parallelo e di struttura fondamentale per comprendere le arti sorelle cioè una lezione come questa è veramente di supporto fondamentale per comprendere un linguaggio di un'epoca che altrimenti rimane superficiale rimane piena di pregiudizi di luoghi comuni e non che offre la possibilità di essere compresa calata e restituire a noi alla nostra epoca una visione anche di ciò che siamo perché siamo figli anche di quell'epoca lì quindi per questo ti ringrazio comincia tutto lì la contemporaneità inizia nell'ottocento se non lo capiamo e non lo affrontiamo non possiamo capire noi stessi ciò che succede nel futuro grazie grazie